Stai vedendo quello che vedo io? Che vedevo io? Di là, di là. Ti lo stai vedendo quello che sto vedendo io? Cioè noi stiamo... Fantozzi, guarda! Sta piovendo, sta piovendo, vado indietro, aspetta. Continua a piovere? No, non piove più. Senti, non piove più. E ora non piove più neanche avanti. Poi dicono che non esiste la nuvola di Fantozzi, la nuvola di Fantozzi esiste, ora dove si è spostata la nuvola di Fantozzi, ora non piove più neanche qui. Dove sta piovendo adesso? Tino, quando si dice di trovarsi al limite, eh? Hai visto? Pioveva o non pioveva? Di Fantozzi, ecco, la nostra nuvola di Fantozzi, questa è anche un'altra situazione del giornalismo di strada, tu devi stare pronto a qualunque tipo di evenienza, piove, sole, grandi, neve, 48 gradi, 22 gradi, 0 gradi... Eh? Stai grandi numeri. Eh sì, perché per far capire che questo è il nostro lavoro, come andare a recuperare la connessione qua e là, la corrente, la presa, il computer, ricarica, scarica, e invece vedi? La nuvola di Fantozzi l'abbiamo persa, Tino, l'abbiamo persa, ma abbiamo... Ecco qua, no, questi sono gli alberi, non sono né la nuvola di Fantozzi, qua piove perché gli alberi hanno preso l'acqua e piove, vedi? Dove c'è l'albero, vedi? Sta sgocciolando l'albero, sgrulla l'albero, guarda un po', sgrulla l'albero. Invece quella era proprio la nuvola di Fantozzi, non c'erano alberi, non c'era vegetazione intorno, è stata veramente un'esperienza mistica, se anche voi vi siete trovati maghi a entrare nella perturbazione dal nulla, fatecelo sapere, commentate il video con la vostra esperienza, questa è la nostra meraviglia, e questo è anche il giornalismo di strada, con la macchina, la telecamera balla, tu poi non sei più stabile, 57 anni appena fatti, quindi è così, va bene, per ora e solo per ora, mentre andiamo a cercare la nuvola di Fantozzi è quasi tutto, Tino, beh, è stato buono, beh, ciao!